Ciao a tutti, qui fa un freddo a cane, si vede dal mio abbigliamento, però volevo comunque approfittare per dare una buona domenica a tutti i fan, insomma va tutto a posto. Stiamo per cominciare, quindi tra un po' mettiamo in moto tutto il meccanismo che poi porterà quello che dovrebbe essere il prossimo disco. Speriamo bene, intanto vi mando un saluto grande e alla prossima, ciao!